E bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono Giovanni T e oggi grazie all'aiuto di Squeak, ovvero Samuel, il mio migliore amico, testeremo una mappa strana che a quanto pare su NULZBRAWL, NULZBRAWL! La versione è craccata perché se no ragazzi vi lamentate i commenti dicendo, ma cazzo vedo via mille gemme, ok, allora, iniziamo col dire che questa è un amichevole e cliccando qua possiamo cliccare infinite, super, no, poison, ok, Squeak, il mio amico, Samuel, si è messo Corvo e io mi sono messo Barley, e perché direte voi? Ragazzi, Barley e Corvo devastano con le Super, Samu metti pronto, stiamo in chiamata su Meet dal computer ma voi non lo potete sentire perché l'audio si sente una schifezza, la Super come vedete è già carica, e come direte voi, ma come cacchio è possibile? Guardate qua quante Super posso usare, guardate, cioè con questo faccio ubriacare mille nani con questo crudino, Samu usa la Super, usa la Super, non addosso a me, non addosso a me, non addosso a me, guarda, usa l'altra volta, usa la, usa la, avete visto quanto devasta, vai, usa la sempre tante volte, cioè guardate, ora dopo la proviamo con i bot perché, anzi facciamolo in un altro video, ma voglio far vedere quante cazzo sono devastanti le Super Day Brawl perché voi la potete utilizzare una sola, ahia mi è avvelenato, la potete usare solo una volta, ogni tipo 10 secondi la Super, ma infinito no, che cacchio di pozzerriamo con Bombardino, ragazzi, ma poi pure con Corvo, cioè Corvo salta sempre, e mi ha ucciso, e mi ha ucciso, mi ha ucciso, mannaggia, no, mi ha distrutto, mannaggia, vabbè, adesso proveremo con un altro Brawler che è una super devastante, stiamo parlando del carissimo Samu, metti, metti Rom, metti Rom, metti Rom, io provo con Brock, perché Brock veramente ragazzi devasta con la Super, cioè la Super di Brock penso sia una delle più potenti del gioco, non mi preoccupate, qualche giorno arriverà la classifica delle Super più potenti del gioco, mi stavo affogando, quindi Brock con l'abilità stellare che ti aumenta i razzi, vediamo come funziona, allora Samu ricorda che Grom è un Brawler epico, ed è quello tipo con la maschera rossa, quindi adesso vi farò vedere quanto devasta la Super di Brock Intanto ragazzi penso che Grom sia uno dei Brawler con le skin più fighe del gioco, adesso, guardate qua, cioè guardate ragazzi, ma King Jong-un, ma tu dove cazzo vuoi stare? C'è King Jong-un, King Jong-un, questi razzi non li hai buttati manco tu in 10.000 anni di vita, capito? Capito? Cioè avete capito quanto cazzo è forte Brock con la Super di opera? Ma adesso ragazzi proviamo un'altra Super, sto parlando di quella, dov'è, 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 no dov'è, scusate ragazzi non trovo i Brawler perché c'ho tutto incasinato, facciamo quella di Chester perché a lui cambiano sempre le Super, Samu tu metti, metti Dynamite, metti Dynamite perché se ti carichi l'overdrive crea un casino con quelle bombette, Allora, voglio provare con Chester perché Chester gli cambiano sempre le Super, quindi voglio vedere con quale partiamo e provo a tirarle infinite di Super, intanto ragazzi, Chester è uno dei Brawler leggendari più forti Ok, partiamo con questa, Samu ti bombardo casa, bom, ho scassato un muro, ok, continua, vai Samu lancia, 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 oddio ho sbagliato il bloccato, vai lancia, continua a lanciare, ne puoi lanciare infinite Ora è con la skin Dynamite che lancia i razzi, ma figuratevi raga, veramente è OP questa Super, aia, Samu è, Samu è, Samu è, Amova, Amova, uscì Ok, parlo un po' come Marzia, perché comunque, Marzia è il mio stile di vita Oh, oh, no, no, non è possibile, no, vabbè comunque abbiamo capito che Chester cambia poco le Super quando ne usi tante Ma adesso passiamo alla Super di Energetic, però non lo so, Samu tu metti la Super, cioè mettiti Griff, anzi non fai una cosa, mettiti Frank Io provo Mortis, che ragazzi, Mortis incuriosisce molto, voglio vedere, che Mortis c'ha una Super molto sottovalutata, quella ti ricarica tutta la vita La puoi usare all'infinito la Super di Mortis, se colpisci tanti nemici, cioè guardate, guardate, guardate quanto è tornato, guardate Ma dove le vedete queste cose, penso solo sul mio canale, guarda, ok, ora mi ha bloccato, però E non mi ha preso, e non mi ha preso, ah, mi ha preso, mi ha preso Ah, no dai, non è possibile Ora stai saltando come un porco Ma adesso ragazzi proviamo con Stecca, il mio brawler preferito Perché Stecca proprio, e poi ho chiesto a Simone di mettere Shelly Ragazzi, ragazzi, raga, Stecca Devasta, ve lo dico, Stecca Devasta Perché, guardate qua, io mi faccio due cassi in tre secondi Guardate, guarda, 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 ora deve essere vicino Ah, 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 ah Perché tu hai provocato Stecca, il mio brawler preferito E se tu ti permetti di nuovo di uccidermi col mio brawler preferito, io ti devasto la casa Hai capito? Hai capito? Hai capito? Non hai capito? Tu ti metti contro Stecca Ma tu non sai che Stecca è il brawler più forte del gioco Non è il brawler più forte del gioco, ma sicuro non è dei più forti Allora Eh, bello, bello, bello Eh, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace Allora, facciamo una cosa Visto che lo voglio far soffrire Non lo uccido subito Lo faccio prima soffrire un po' Vieni qua, vieni, vieni Oh, no, vabbè, raga, devasta Devasta sta cosa Cioè, guardate quante cose posso creare Cioè, guardate Guardate Cioè, sembra una mod di brawl E in effetti lo è Però comunque C'è C'è, raga Ma dove ti nasconderà quel lezzo di Samuele? Devo trovarlo, perché Ah, sta là Ti fai pure vedere Ti nascondevi nei cishpui Bello, bello, bello Non facevi niente Dove sei, Samuele? Dove sei? Dove sei? Sicuro è qua Non è qua Ho sprecato un gadget Penso il più forte del gioco Sta qua? Qua? Dove sei, belle papà? O stai? Mi ha fatti vedere Perché comunque Raga, vi giuro Non lo so dov'è La 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 tempesta Non l'ho messa Non l'ho messa Perché almeno Voglio divertirmi di più Con queste super No, ma io la partita Finisce subito Dove? Dove sei? Dove sei? Aha, stai là No, non stai là Pensavo di aver visto No, dov'è? Serio? Ja, dove stai? No, 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 no Provo ad usare un gadget Ma sicuro non c'è Raga, mi resta un gadget Non lo voglio sprecare Non lo voglio usare Per quando mi sta vicino Così almeno vi faccio Tanti danni Dove sei? Mi stai aspettando Mi stai aspettando E non c'è spuglio Eh Fatti trovare Se tieni le palle Esci Esci se tieni le palle Esci Immediatamente Che io c'ho stai paura T'ho visto No, spero Era un'ombra No, non è possibile Vabbè ragazzi Questo video termina qua Spero vi sia piaciuto Era un video sneak peek Abbastanza carino Che volevo farvi vedere Che volevamo farvi vedere Io spero che vi sia piaciuto Noi ci vediamo direttamente In un prossimo video Grazie